GF VIP 7, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli prima litigano, poi pace e lei confessa di avere un ritardo nel ciclo. Non solo l'amore, ma sembrerebbe che anche i flirt non siano belli se non sono litigarelli. Per ogni dubbio citofonare la casa del GF VIP 7 e chiedere di Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. La coppia, o forse ex coppia, nelle scorse ha prima litigato, poi ha fatto pace e per finire si è lasciata andare alla passione, con tanto di confessione, shock. Come riportato da B.C.E.T., alle ennesime accuse dell'air stylist, Oriana Marzoli è sbottata. Tu non hai capito nulla e questo mi dà fastidio. Mi sta bene che hai voluto interrompere la frequentazione. Ma non andare a dire in giro che non faccio discorsi profondi per farmi passare da scema. Come faccio a fare discorsi profondi? Mentre parlo tu prendi e ti alzi e vai via. Ti prego di non andare a dire che non sono capace di affrontare questi discorsi. Non sono idiota e non mi va che mi ci fai passare.